Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Vanda Nara si rifà il look, passando dal celebre hairstylist Federico Lauro e in un attimo e boom di like Ecco come è apparsa la bellissima Argentina in queste ultime ore sui social Non si può di certo dire che Vanda Nara passi inosservata. Sia per il suo fisico mozzafiato che sfoggia nei suoi scatti bollenti, che costantemente mandano in visibilio i fan, sia per la sua vita privata, recentemente, nuovamente al centro del gossip La procuratrice sportiva sudamericana e suo marito Mauro Icardi, si aggiungono alla lista delle coppie che stanno facendo discutere dalle colonne dei giornali di Cronica Rosa, nel bene e nel male, in questa estate 2022 Dopo il tradimento del calciatore del Paris Saint-Germain, la presunta riappacificazione, arrivano le voci di un imminente divorzio Vanda Nara avrebbe persino denunciato la sua ex collaboratrice domestica che ha diffuso la voce di una presunta rottura della coppia più famosa del mondo del calcio Il nuovo look di Vanda Nara.Vanda Nara ama tantissimo apparire sempre bella e sensuale nonostante i chiacchiericci che hanno travolto la sua privacy, non perde tempo a recarsi dal parrucchiere per un restyling perfetto La vediamo infatti, in una delle stories del parrucchiere delle VIP, Federico Lauro, con un colore di capelli fantastico New look per chioccio lavanda sottolineatura Nara base cenere chiaro naturale e sfumatura bionda esco un volume pazzesco grazie alle mie Taylor hair per un look sofisticato e super glamour. È la didascalia che accompagna l'immagine Un look strepitoso che tutte le bionde potranno imitare.Non si placano i chiacchiericci Ma i pettegolezzi sulla vita coniugale di Vanda Nara, non si fermano all'imminente e presunto divorzio Secondo i medi argentini, l'ex moglie di Maxi Lopez avrebbe tradito Icardi con un altro calciatore, un uomo sposato È Lucas Bertero il presentatore del programma alla tarde a lanciare la bomba, Vanda si sta già consolando, da tempo Alcune fonti mi indicano che ha un flirt con un calciatore oltretutto sposato Ma l'identità del calciatore non è stata svelata.Ma per tutta risposta cosa fa la coppia? Posta foto di famiglia in cui si mostrano felici e innamorati ad Ibiza Insomma, il miglior modo per mettere a tacere i pettegolezzi, con l'aggiunta di una capatina dal parrucchiere, che fa sempre bene Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video